Bentrovati a un nuovo appuntamento con CVG, cinema e videogiochi. Apriamo questa puntata con Uncharted, l'abisso d'oro, uno dei titoli di lancio per la nuovissima console PlayStation Vita. Parliamo adesso di Resident Evil 6, nuovo e artesissimo episodio della saga horror più famosa dei videogiochi. E ora cambiamo completamente genere con Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier, nuovo episodio dello sparatutto ipertecnologico per eccellenza. Diamo adesso un'occhiata alla sala cinematografica, direttamente dagli anni 50 arrivano sul grande schermo i Muppet. Facciamo ora un salto nel futuro e vediamo cosa ci attende nei prossimi mesi al cinema. Prepariamoci quindi al quinto capitolo tratto dalla famosa serie videoludica di Capcom, Resident Evil Retribution. E con questo è tutto, ci vediamo la settimana prossima in tv sul web ogni giorno con nuovi fantastici aggiornamenti. Buon divertimento!